benvenuti dopo quasi due mesi bentornati a tutti cominciamo con una nuova serie di video per provare un sacco di roba oggi nello specifico abbiamo una crafty r carbon 2021 trasformata in xr praticamente con fox 38 e faremo la prima prova primo impatto con la fox 38 factory grip 2 da 170 e poi abbiamo messo su un dhx a molla una bici della madonna gomma nuova perché proviamo la vittoria e mazza quindi quella con la carcassa specifica i bike è un po più tosta vediamo adesso andiamo a treia san lorenzo di treia che abbiamo già girato è lungo e largo andiamo a vedere come va ciao vediamo un po come si comporta sono quasi emozionato poi tutto a presto Ah Ola 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 ma cazzo questa macchina qua, vediamo un po' come va il tarro d'osso se arrivi forte 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 l'impressione è che il nuovo Bosch con il nuovo aggiornamento è una figata perché abbiamo fatto circa 900 metri di dislivello con tre discese quindi usato anche il motore come faccio sempre prima abbastanza in sordina e poi messo a turbo abbiamo ancora il 67% di batteria è una roba imbarazzante quindi Bosch tanto di cappello la bici il carro posteriore è impressionante come avevo fatto nel 2020 è una bici che veramente quando si lascia nei freni va forte molto più facile da guidare rispetto alle vecchie model molto immediata la guida non non si avverte la differenza di lunghezza di telaio per me è una bici completa della madonna la gomma la gomma mazza e mazza non ho avuto particolari difficoltà nella tenuta anteriore quello che mi ha lasciato un po' perplesso è la Fox 38 non è stata una prova di quelle che dici wow questa spiana tutto non sono riuscito a percepire quella probabilmente sono io che sono fisicamente un po' giù d'allenamento la la 38 di Fox poi ho la grip 2 top di gamma non vedo cosa cambi dalla 36 non riesco a percepire e sicuramente mi tirerò addosso il mondo perché sembrano tutti impazziti per la 38 non mi sembra che si necessiti di avere uno stereo la 38 quando c'è già la 36 che va va bene va benissimo è fondamentalmente la stessa forcetta ragazzi è stato un piacere piacere nostro ci vediamo alla prossima ciao ciao